Un cordiale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, la trasmissione che approfondisce i fatti di cui si è occupato il nostro giornale Blog Sicilia durante il tempo, ma che guarda anche a tutto ciò che riguarda la nostra isola. Oggi è il nostro ospite Umberto Mendola delle Mias Sicilia, che ringraziamo per essere qui con noi e con lui parleremo di autonomia, dell'autonomia regionale siciliana. Sarà un discorso ampio e complesso, anche se evidentemente nei nostri tempi, eventualmente quello che noi riusciremo a sviscerare in questa trasmissione potremo affrontarlo nelle prossime, perché come voi sapete non ci fermiamo mai nel trattare un argomento a una sola puntata, lo torniamo a trattare in vari episodi, in vari momenti, magari a distanza anche di mesi, a seconda delle situazioni, perché parliamo di autonomia e diciamo è complessa. Avete sentito parlare sicuramente tutti quanti voi di quello che è lo statuto autonomistico siciliano, ma questo statuto, a prescindere da tutto ciò che comporta da un punto di vista quotidiano, insomma, nell'attività dell'Assemblea regionale siciliana, nelle scelte che vengono operate, nei rapporti con Roma e con tutte le leggi che troppo spesso fanno avanti e indietro da Roma vengono impugnate, in realtà lo statuto siciliano è molto di più di quello che noi oggi conosciamo, ma facciamo un attimo un passo indietro e prima di tutto ci facciamo spiegare da Umberto Mendola che cosa è il MIAS, che è comunque un soggetto politico. Dunque Mendola, cos'è il MIAS, cosa fa? Sì, signori, buongiorno e buon pomeriggio. Il MIAS Sicilia è un partito politico regionale, regolarmente costituito, che ha come obiettivo l'applicazione integrale dello statuto autonomo. Perché la nascita di un ennesimo partito politico, qualcuno può dire? Perché abbiamo visto in passato che tutti i soggetti che si sono candidati in vari schieramenti e colori politici, parliamo dell'Assemblea regionale siciliana, appena saliti all'Assemblea siciliana si dimenticano che cosa sia lo statuto autonomo, proprio perché salgono in un partito italiano che deve dare conto e ragione a Roma, quindi alla sede dei vari partiti romani e che quindi, come tutti sappiamo, il partito politico italiano viola da 75 anni lo statuto autonomo speciale. per fare un esempio e poterci capire, il prelevo fiscale illegittimo di 10 miliardi l'anno che lo Stato italiano effettua dalle casse della Sicilia, violando quindi l'articolo 36 e 37 dello statuto autonomo, che consentirebbe ovviamente il trattenimento di queste risorse fiscali per statuto speciale autonomo. Quindi la loro disapplicazione grazie ai partiti italiani fa sì che in Sicilia noi stiamo sempre quasi alla soglia dello zero. Questo dunque ci porta verso quello che è il discorso che stavo introducendo, l'applicazione dello statuto di tutto quello che lo statuto è. Il Mies dunque è un partito politico, ma anche se non ha rappresentanza parlamentare in questo momento, la sua azione è un'azione politica per la promozione dell'applicazione dello statuto. Ma la prima domanda da questo punto di vista, più volte abbiamo sentito parlare della eventualità, della possibilità che lo statuto prevede del trattenimento per intero delle tasse in Sicilia, ma quella che è la risposta che c'è sempre arrivata è che la Sicilia non sarebbe comunque autosufficiente. No, non è assolutamente vero, la Sicilia è più che autosufficiente, la Sicilia è ricchissima, al contrario di quello che l'Italia vuole farci credere. La Sicilia ha i giacimenti di petrolio, ha le raffinerie a gel, ha un petrolio che l'Italia non ha, ha un gettito fiscale che nessuna regione, neanche Milano, dà 10 miliardi all'anno come gli dà la Sicilia. Quindi la disapplicazione dello statuto autonomo fa sì che prendono al sud per far vivere al nord, questo è. Invece l'applicazione dello statuto autonomo fa sì che almeno in Sicilia possiamo sopravvivere molto bene, anzi non sopravvivere, possiamo vivere molto bene con le nostre risorse. E semmai il nord che non può vivere senza il sud, esattamente al contrario. E ne ho le prove, perché nelle nostre interlocuzioni che noi abbiamo avuto con la regione siciliana, questo inverno, quando si parlava di accise, di caro energia, di caro carburante, siamo stati ricevuti all'assemblea siciliana perché ovviamente ci è stato chiesto e perché il MIAS, non avendo giustamente rappresentanza politica, ha tentato di applicare allo statuto autonomo con tutta una serie di atti giudiziari che abbiamo notificato nei due lunghi anni, tra cui ce ne stiamo preparando uno molto dirompente, adesso ne parleremo. E siccome ovviamente lo statuto autonomo prevede un taglio netto di accise sui carburanti e sull'energia, ci è stato chiesto proprio dal capo di gabinetto della regione dove si potessero prendere queste risorse. E noi effettivamente abbiamo prodotto un documento di sole tre pagine che spiega esattamente dove andare a prendere le risorse. La prima risorsa per esempio potrebbe essere il taglio degli aumenti delle indennità parlamentari, che in un momento delicato come questo sarebbe superfluo, la seconda sarebbe l'applicazione degli articoli dello statuto, quindi senza pensare a nuove normative o a nuovi decreti leggi che in realtà alla fine hanno il suono di un giro di vite sempre nei confronti della popolazione, ma applicando solo parte dello statuto autonomo i siciliani avrebbero un grosso respiro di ossigeno puro. Bene, avete parlato del fatto che abbiate promosso degli atti giudiziali per tentare l'applicazione di questo statuto. Allora, raccontiamo quali sono questi atti che avete fatto negli ultimi due anni. Allora, alcuni atti per esempio sono quelli di sollecitare l'applicazione dello statuto autonomo. Sollecitare in che forma? Per esempio abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti, tramite ovviamente un altro deputato, chiarimenti sulla presenza delle prefetture in Sicilia. Le prefetture non fanno altro che indebolire il tessuto economico siciliano, le nuove prefetture, e allontanare l'introduzione al lavoro dei giovani. Per fare un esempio, l'accesso alle guardie giurate da parte dei giovani è pressoché difficile, perché è pieno di ostacoli, di testo unico, di pubblica sicurezza, che sono norme del re del 1931 e che purtroppo fanno parte integrante del tessuto normativo siciliano solo perché ovviamente per evitare quella vacazio legis, ma è vacazio legis nei primi anni ovviamente del passaggio tra Regno d'Italia e Stato italiano. Quando però questa vacazio legis dura 75 anni è violazione, non è più un colmare della vacazio legis e quindi ovviamente il ragazzo che vuole fare la guardia giurata non può fare la guardia giurata perché il prefetto dice tu lo puoi fare e tu no, perché tuo nonno ha avuto un problema di legge, tuo zio ha un problema di legge oppure tu non hai versato gli alimenti alla tua ex moglie e quindi ti levo il decreto di guardia di portodarmi. È chiaro che queste prefetture non fanno altro che andare contro ovviamente i giovani che già a stento cercano di trovare un lavoro. Ma in questo modo se non ci fossero le prefetture che cosa dovrebbe esserci? Dovrebbe esserci qualcosa che svolge comunque il compito di controllo del territorio, di mediazione, tutta una serie di compiti che sono svolti dalle prefetture, chi dovrebbe svolgerli? È previsto dallo statuto autonomo, non lo dico io, l'articolo 31 cioè abbiamo il Presidente e la Regione che ai sensi dell'articolo 21 e 31 dovrebbe svolgere le mansioni di ordine pubblico per fare un esempio, quando ci sono il cambio dei vertici anziché essere lui a nominarli li nominano, lo nomina Roma e a lui mandano una comunicazione delegittimando di fatto la figura del Presidente della Regione. È una cosa che non sta... Quindi non è tanto la prefettura in sé, così come l'esistenza della struttura, ma la nomina che avviene da Roma, l'imposizione da Roma e così via dicendo l'applicazione di una serie enorme di derivazione romana o addirittura antica. Sono anche le prefetture, perché nel momento in cui il ragazzo fa, per fare un esempio, un giovane, una qualsiasi persona fa una domanda per avere un'autorizzazione che riguarda il testo unico di pubblica sicurezza intanto c'è un solo soggetto che decide e un solo soggetto che dà e toglie, quindi né più né meno come uno Stato monarchico quando invece ricordo a me stesso e a tutti che i provvedimenti inauditi d'altra parte ormai sono da considerarsi illegittimi anche il giudice, per fare un esempio, che emette l'ordinanza di sfratto nei confronti di un inquilino moroso non è lo stesso che lo revoca. C'è un altro giudice, che è il giudice dell'opposizione, che revoca l'eventuale provvedimento di sfratto qualora ve ne siano ragioni fondate. In questo caso il giudice concede e il giudice toglie come un monarca, quindi vorrei capire se abbiamo o non abbiamo vinto il referendum Stato monarchia. Bene, altri atti che sono stati promossi in questi anni? Una serie di atti tra cui il famoso ricorso contro il Green Pass che è passato con il filtro di ammissibilità alla CEDU e che in realtà i nostri iscritti hanno vinto nelle sedi opportune giudiziarie perché hanno fatto valere l'articolo 17 dello Statuto autonomo, cioè in Sicilia non è mai stato emesso lo stato di emergenza, in Italia è stato proclamato lo stato di emergenza, ma in Sicilia lo doveva fare il Presidente della Regione. Adesso stiamo per proporre, se tutto va bene ho già parlato con il Professore Sinagra dovremmo ancora avere qualche altra interlocuzione, stiamo proponendo la rottura degli accordi economici Stato-Regione da crocette in poi. E quelli sono pesanti perché comunque vanno in più anni, ma questo riguarda anche gli ultimi accordi? Sì, certo, sono tutti legittimi. È tutta materia che è regolamentata dallo Statuto autonomo speciale e non può essere derogata a patti, quindi tutti questi accordi sono tutti legittimi. Cosa ne potrebbe derivare? Ne potrebbe derivare un arricchimento eccezionale per la Sicilia, un non dipendere finalmente da Roma, un avere dei soldi per le infrastrutture, perché ricordiamo che per andare a Catania ci vogliono tre ore, per andare a Roma forse ce ne vogliono meno, ovviamente ho fatto un esempio, ma potrebbero derivare una serie di risorse maggiori per aggiustare tutta una serie di cose che fino ad oggi in Sicilia non sono state fatte. Proprio in queste ore abbiamo appreso di una delle ultime sentenze della Corte Costituzionale che ha bocciato una legge regionale, in particolare in questo caso è stata la riforma urbanistica perché confligge con riforme nazionali. Ma ormai è in prassi da anni quello di arrivare davanti alla Corte Costituzionale per moltissime delle leggi siciliane, è questo il percorso corretto? Allora noi avevamo un organo che si chiamava Alta Corte per la Regione Siciliana, abbiamo parlato con diversi deputati regionali affinché ci presentasse un'altra interrogazione parlamentare proprio sull'Alta Corte che in realtà non è mai stata soppressa, ma giace viva sotto le proprie ceneri, è un gergo che i giuristi capiscono perfettamente, ma nessun deputato regionale ce l'ha voluta presentare, o meglio è stata presentata l'anno scorso da un deputato, ma ne è stata vietata la discussione. In che senso è vietata? Ne è stata vietata dagli altri deputati la discussione, cioè non si deve parlare di questo argomento perché effettivamente è un'altra situazione estremamente poco chiara dalla quale in maniera difficile se ne potrebbe uscire fuori in maniera legittima. Quindi così come poi l'interrogazione parlamentare delle prefetture ci ha dato piena soddisfazione perché poi l'assessore assegnato ha dovuto ammettere a denti stretti che ci sono grossi problemi di incostituzionalità relativamente a queste nuove prefetture siciliane, lì addirittura ci sarebbe tutta una situazione, cioè domani mattina noi siamo nelle condizioni se il Presidente del Tribunale di Palermo vuole, di andare a nominare 7 giudici nuovi, ma l'Italia non vuole. Facciamo un piccolo passo indietro, spieghiamo a chi ci segue che cosa è l'Alta Corte, è prevista proprio dallo Stato Autonomistico Siciliano, doveva servire a dirimere, o quantomeno ad affrontare, a disporre sui conflitti che potevano sorgere, proprio fra la legislazione siciliana e quella nazionale, visto che è considerato che lo Stato Autonomistico Siciliano ha valore costituzionale a tutti gli effetti, quindi è possibile, come tante volte è successo, che quel che avviene legislativamente in Sicilia e in Italia possa confliggere. L'Alta Corte doveva essere l'organismo deputato a risolvere queste crele ed era composto da 7 giudici, la cui nomina è profondamente diversa da quella della Corte Costituzionale, ma anni orsono, tanti anni fa in realtà, queste competenze sono confluite, non si sa come, chiediamo adesso magari a Umberto Mendola se ce lo sa spiegare, sono confluite nella Corte Costituzionale. Sì, effettivamente nel 1976 è uscita una sentenza della Corte Costituzionale italiana che ricordo essere pari grado della nostra Alta Corte per la Regione Siciliana, la quale assorbiva le funzioni perché, detta loro, era una duplicazione di funzioni, ma così non è, perché come giustamente ha detto poc'anzi il nostro direttore Viola, che è noto con piacere, profondo conoscitore della nostra Carta Costituzionale, perché lo Stato Autonomo è Carta Costituzionale, quindi prima è nata la Regione Siciliana e poi è nato lo Stato italiano, è giusto ricordarlo a chi ci ascolta, ci aiutava questo organismo a difenderci da tutto quello che subiamo ogni anno dall'Italia, quindi un prelievo fiscale illegittimo ogni anno dall'Italia, l'imposizione delle prefetture italiane che rallentano lo sviluppo economico, socio-economico a livello regionale, che rallentano l'introduzione al mondo del lavoro dei giovani e così tutto quanto, non avendo più questa difesa ovviamente subiamo l'aggressione continua da parte dell'Italia. La differenza fondamentalmente con l'Alta Corte sta nella nomina dei giudici? Anche e soprattutto, perché è chiaro che i giudici vengono nominati dalla Regione Siciliana e devono occuparsi di derimere, di difendere effettivamente l'applicazione formale e sostanziale dello Statuto Autonomo Siciliano. E allora Mendola, abbiamo detto che cosa è il MIAS, ma la seconda domanda che viene in automatico di conseguenza a queste dichiarazioni è come è possibile per chi volesse entrare in contatto, raggiungere il MIAS, conoscerlo meglio e capire se ci sono le condizioni da parte di chi si avvicina per partecipare, per essere partecipare, per essere attivo, per conoscere meglio tutte queste vicende. Abbiamo un sito, chiunque può scrivere MIAS Sicilia su internet, abbiamo il nostro sito www.miasesicilia.it, ci sono i nostri recapiti telefonici, la nostra mail, rispondiamo sempre a chiunque e con molto piacere devo dirvi che ci scrivono anche dal nord, perché quando c'è stato il periodo emergenziale, noi abbiamo aperto uno sportello per le reazioni avverse, abbiamo messo a disposizione otto medici gratuitamente, abbiamo curato un sacco di gente del nord, un sacco di gente del nord, il MIAS è aperto a tutti, ma come obiettivo principale è l'applicazione dello Statuto Autonomo, abbiamo una sede in via Valerio Rosso 53 e chiunque può entrare in contatto con il MIAS. A Palermo evidentemente, come ci siamo, la nostra smissione si vede in tutta Sicilia e quindi è opportuno sapere che stiamo a Palermo. In realtà di partiti che si dicono o che sono autonomisti o indipendentisti ce ne sono numerosi, faccio la differenza anche fra autonomisti e indipendentisti perché c'è anche in questo caso una bella differenza. Perché allora dovremmo pensare il MIAS come diverso da quei partiti che poi alla fine si sono alleati spesso con partiti nazionali? Perché purtroppo l'alleanza con un partito nazionale crea sempre una sorta di accordo che depotenzia poi di fatto l'applicazione o la forza dello stesso partito. Il MIAS rimarrà tale e si coalizza solo con chi sottoscrive un protocollo di intesa che mette, come si suol dire, davanti a ogni interesse l'applicazione integrale dello statuto autonomo. Quindi senza la firma di un protocollo di intesa con un qualsiasi altro partito, sicuramente non italiano ma siciliano, che vuole l'applicazione autonomo, il MIAS non può andare avanti. Indipendentisti o autonomisti? Noi preferiamo gli autonomisti ovviamente, non abbiamo preclusioni per gli indipendentisti purché ovviamente si rendano conto che la strada maestra è quella di applicare quel diritto acquisito che si chiama statuto autonomo che ci è stato concesso il 15 maggio 1946 e violato dall'Italia da 76 anni. Ma essendo nato lo statuto autonomo prima della Costituzione italiana, perché ci è stato concesso? Ci è stato concesso ovviamente per far sì che la Sicilia, indipendente nel 1948, di fatto e non di diritto, poteva riarmarsi di nuovo per la seconda volta e poteva effettivamente essere libera da qualsiasi predominio, soprattutto italiano. poiché la Sicilia si stava riarmando per la seconda volta, il re Vittorio Emanuele mandò il reggio esercito a fare una trattativa e così nacque di notte lo statuto autonomo promettendo ovviamente con l'inganno ai siciliani un'autonomia speciale così particolare da renderla quasi indipendente ma molto autonoma, dando la possibilità di una carta costituzionale come uno Stato e ce l'abbiamo, dando un Parlamento capace di legiferare e ce l'abbiamo, perché siamo capaci di legiferare, abbiamo pure una moneta che pochi siciliani conoscono, che si chiama il grano siciliano, è una moneta che possiamo stampare se solo il Presidente della Regione alza il telefono e autorizza, perché noi abbiamo ancora una banca pubblica, l'Italia non ce l'ha, abbiamo una banca pubblica, questa è una cosa che... L'IRFES, ah l'IRFES sì certo, è un istituto finanziario a tutti gli effetti effettivamente. Bene, il tempo a nostra esposizione per questa puntata è quasi scaduto, a questo punto io lascerei qualche istante a Umberto Mendola per lanciare il suo appello su quella che è la visione che ha il MIAS evidentemente della Sicilia di domani. Ti ringrazio e dico a tutti i siciliani guardate lo statuto autonomo, studiatelo soprattutto, perché nello statuto autonomo troverete le soluzioni per tutti, non c'è nessuna necessità di fare leggi nuove, non c'è nessuna necessità di avere decreti leggi o leggi speciali, tutte le nostre soluzioni possono essere trovate tranquillamente nell'applicazione integrale dello statuto autonomo, volete pagare meno tasse? Applichiamo lo statuto autonomo, articolo 36 e 37, volete lavorare liberamente? Applichiamo l'articolo 15, sono soppresse gli organi periferici dello stato italiano in Sicilia, cioè aboliamo le prefetture, quindi volete lavorare? Applichiamo lo statuto autonomo, non volete stati di emergenza e restrizioni? Applichiamo l'articolo 17 in ambito sanitario, lo deve decidere il Presidente della Regione, come vedete basta applicare lo statuto autonomo per trovare ognuno la propria soluzione. Grazie a Umberto Mendola del MIAS Sicilia, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questo appuntamento, vi rinnovo per il prossimo incontro con Talk Sicilia, arrivederci!